Da ieri i bambini sono tornati a giocare allo stazione. Dopo mesi di attesa finalmente il parco giochi è adesso a loro disposizione. Rimane ancora transennata, ma si spera per poco tempo, solo la giostra dedicata ai disabili. Ad annunciare l'apertura il neo-assessore all'arredo urbano Calogero Segreto. Cosa ha impedito finora la sua apertura? È stata impedita più che altro dagli atti di vandalismo che hanno danneggiato le attrezzature e messo anche a repentaglio la zona anche dal punto di vista della sicurezza. Tant'è che il parco non è tutto aperto, c'è un gioco per i disabili che è ancora transennato perché aspettiamo una ditta specializzata che venga a ripristinarlo. Quindi è stato più che altro un'opera di ripristino per restituire questa struttura alla città. Anche perché è nostra intenzione fare tutta una serie di interventi che permettano a questa nostra comunità di vivere in una città più a misura per i bambini. Assessore Segreto che adesso spera che i cittadini abbiano cura dell'area ludica. Noi ci auguriamo che il buon senso della civiltà in questa nostra città prevalda, anche se abbiamo già notizie che anche stanotte il parco è stato visitato da persone non idonee a questo tipo di parco. Io voglio fare anche un appello alle forze dell'ordine che nell'emore di installare un impianto di videosorveglianza facciano un'opera di pattugliamento principalmente nelle ore notturne. È stata presa di mira anche la struttura adiacente in legno? Sì, quello è un altro problema, lì proveremo a intervenire, anche lì aspettiamo una vita specializzata, lì è una questione non solo di vandalismo ma anche di manutenzione della struttura. E riguardo gli altri parchi giochi invece della città? Noi con l'approvazione del conto consuntivo, cioè nel momento in cui avremmo l'immediata esecuzione di questo conto, abbiamo in programma di attingere per una somma di 70.000 euro a un mutuo che ci permetta la manutenzione e la realizzazione di nuovi parchi. Uno per esempio sorgerà, questo però per avere il privato, però bisogna dirlo, in via Brigadier Anastasi in quell'area che è già stata riqualificata. Poi stiamo cercando di individuare un'area di proprietà del comune per installarne uno incontrato da Isabella. Un altro ne verrà pure alla perriera, però noi diciamo il grosso di questa somma intendiamo utilizzarlo per intervenire per la villa comunale.